Ciao a tutti e a tutte e benvenuti all'ottantottesimo episodio di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Lini e sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché per questa settimana, anzi per questo episodio sono raggiunto solo da lui, ma lui ci fa compagnia per tutta la settimana, mi riferisco chiaramente a Nicola Stufano. Ciao Nicola, come va? Tutto bene? Bene, grazie, buonasera, è un piacere essere vostro ospite come sempre. In questa puntata dovrai inserire randomicamente dei riferimenti all'assenza di primo in cui lo tratterai malissimo, come hai fatto con me e Vincenzo l'altra volta, non me ne dimenticherò mai di questa cosa. Non lo so, guarda, è difficile essere spontaneo. Se sono spontaneo funziona, se no se sono indotto non va bene. Vabbè, comunque ci proverò. Non dovrei neanche parlare del Giro d'Italia però, quindi posso fare riferimenti primo, primoz, cose del genere. È un problema. Ah ok, ok. Vabbè, dai, troverò un modo, non preoccuparti. Ci proviamo, ci proviamo. Oggi, come detto, non si parla di Giro d'Italia, si parla di tutt'altro, la Corsa Rosa va avanti. Io vi ricordo, come sempre, che se volete rimanere aggiornati tutti i giorni su quello che succede, c'è Primo all'arrivo, il podcast di cui si occupa proprio Primo, non Primoz. Ogni giorno tutto quello che vi serve sapere sul Giro d'Italia. Noi invece partiamo, Nicola, ti cedo subito la palla, dal Tour of California. Noi eravamo rimasti a una breve analisi della corsa, una preview e avevamo parlato delle prime tre tappe nella scorsa settimana come si è evoluta la situazione da quel punto in avanti. Questa quattordicesima edizione del Tour of California potrebbe avere un motto che è largo ai giovani, che essenzialmente, non ricordo, una corsa world tour con un po' di una serie di vincitori con un'età media così bassa. Tra l'altro parliamo in alcuni casi di rivelazioni rivelazioni in senso assoluto, nel senso che parliamo di atleti che su questi livelli non erano ancora emersi. O perché non ne hanno avuto la possibilità prima o perché li abbiamo ammirati in altre forme, come nel caso di Kasper Asgren, che non pensavamo potesse essere anche un uomo da corsi a tappe neanche di una settimana, invece è emerso anche da questo punto di vista. Non solo il podio, come dicevamo, ma anche l'età media dei vincitori. Se andiamo a vedere, è impressionante. Noi abbiamo Peter Sagan che ha vinto la prima tappa e svetta come vecchiazzo della situazione con i suoi 29 anni. Poi è seguito da Kasper Asgren che ha vinto la seconda tappa a 24. Remy Cavagna, autore di una maxi fuga a vidone e più di una discesa da far spavento che non si è capito esattamente che cosa gli è successo a 23 anni e spero che riesca a vivere ancora almeno a tanti 23, visto come scende. Fabio Jakobsen ha ancora 22 anni, andiamo sempre più giù. Ivan Garcia con Tina rialza la media con i suoi 23 anni. Tadej Pogaccia ha 20 anni ancora e ne deve compiere 21 a settembre e ha vinto la classifica generale del California dopo aver vinto quest'anno già la volta al Garde ed essere arrivato sesto in una corsa da duracci come il Giro dei Paesi Baschi. Siamo a 23 anni, ha vinto la sua seconda gara da professionista dopo la knocker course e soprattutto ha sverniciato in volata un certo Peter Sagan senza neanche troppi complimenti. Quel vecchiaccio di Peter Sagan. Quel vecchiaccio maledetto di Peter Sagan che ricordiamo viene in California essenzialmente per rilassarsi. Questa è una chicca che potete trovare nella sua biografia che tra l'altro Marchettone è in vendita nello store di ciclo web se la cercate. Nella sua biografia Peter Sagan racconta che California è insomma una situazione in cui lui ricomincia la stagione e si rilassa. Quando era sposato si rilassava perché aveva tempo per stare con sua moglie, per condividere un po' di momenti insieme pur restando in gara, ma anche per la minore tensione che c'è sia durante la corsa, pensiamo agli stradoni che attraversano gli atleti, quindi insomma la rincorsa alle posizioni in California è insomma una questione un po' meno esasperata che nelle altre corse e pensiamo anche all'atmosfera che c'è, comunque insomma i tifosi americani non sono pressanti come quelli europei, Peter facciamo una foto, insomma ha raccontato un po' questa cosa e mi sento anche di condividere, tralasciamo il fatto che comunque c'è Specialized che sponsorizza anche la corsa e quindi chiede in un certo senso la sua presenza, insomma questa cosa sembra che non gli pesi, infatti è tornato a vincere anche se insomma sembra ancora lontano da quel corridore che ci aveva, ci ha emozionato negli ultimi anni, speriamo che non sia l'inizio di un declino, speriamo che sia soltanto un momento. Ecco lui stesso nella sua biografia racconta che poi nell'anno 2000, aiutami, 2013-2014, l'anno in cui si è separata la Tinkoff, 2015 ultimo anno con la Tinkoff, esatto, il 2015 in un'annata in cui la prima parte di stagione fu veramente tragica perché c'era Riz che fu silurato da Tinkoff, insomma c'era molto disordine in squadra e lui aveva dietro Bobby Giulic come preparatore e Bobby Giulic aveva questo approccio un po' invasivo, cioè gli chiedeva tutti i giorni quanto aveva mangiato, quante colori aveva consumato in allenamento, come stai, di che colore hai fatto la pipì, tutte queste cose qui che un po' li stavano sui coglioni e a lungo andare sembra che gli pesasse questa situazione. Secondo te Giulic lo sapeva che se mangi gli asparagi poi la pipì ha un colore più giallato? Madonna, ma non solo un colore, anche un odore, ti raccomando. Comunque, comunque vabbè, insomma la situazione societaria, anche i corridori hanno abbastanza disorientati, sia la situazione societaria che la preparazione un po' l'avevano messo in questa situazione problematica, che ha subito e ha risentito quei risultati, quindi la speranza è che in questo momento i problemi di Sagan siano più problemi di preparazione che non problemi di testa, anche se, insomma, sappiamo che con i corridori la seconda opzione è sempre quella più facile. Ma chiudendo questa parentesi su Sagan, insomma, potremmo dire qualcosa sui bei corridori che abbiamo visto emergere. Eh, ce ne sono tanti. Sì, sul Tour of California poi, allora, proprio per il tipo di corsa che è, senza grande tensione in gara, aiuta, e questa è una mia personale teoria, però mi sento di condividerla, aiuta i talenti puri ad emergere, mi spiego meglio, dove non ti consumi a livello nervoso prevale sostanzialmente la forza bruta e comunque quel minimo di tattica che hai. Ne prova che tanti corridori che in Europa non sono mai riusciti a emergere o a vincere grandi corse, poi qua in molte occasioni hanno fatto man bassa. Anche lo stesso TJ Van Garderen che è riuscito a vincere qui, ma mi vengono a mente anche altri tipo Juan Dennis, spesso è stato podio, o Zabrisky che nei GT non era mai emerso. Tutti questi corridori qui, insomma, a California hanno sempre fatto bene. Poi magari... Forse è lo stesso Gezin che trovò un'annata particolarmente... Sì, perché almeno riuscivano a non cadere. Eh, probabilmente... Ecco, Van Garderen è un corridore che ad esempio a livello nervoso si consuma, c'è sempre il suo momento, no? Sto anno è successo anche a California, vabbè, però evidentemente è anche in calo. Sì, c'era una buona stella che lo proteggeva, poi dopo... Adesso ci arriviamo su questo tema. Eh, dopo approfondiremo, sì. Perché hai gettato un sacco di sassi e adesso cerco un attimo di fare... Metterli tutti insieme, poi dopo da qui ripartiamo. Allora, prima cosa, una nota di colore sui tifosi europei di Sagan, io ne conosco uno che mi ha detto, una volta dormo avvolta nella stessa bandiera slovacca dal 2011. Non vi dirò mai chi è, cari ascoltatori. Non possiamo farne il nome, credo. Possiamo farne il soprannome, primo. Diciamo che è il primo dei suoi tifosi. Esatto, mettiamola così. No, non è vero perché c'è un amico fraterno di Sagan, questo l'ho detto sempre sul libro, che si è tatuato la faccia di Sagan sulla schiena. In risposta a un tatuaggetto che si era fatto Sagan, invece sulla coscia, praticamente si era tatuato la firma di questo qua, dopo che questo in una serata alticcia gli aveva firmato insomma la coscia con una penna. Ok, ok. Speriamo che primo non senta questa puntata. Comunque, tornando al Tour of California. C'è stata in effetti il giorno prima del passaggio di Maglia che ha visto questo Pogacar esplodere definitivamente, probabilmente, all'interno della scena del ciclismo mondiale. Io, onestamente, settimana scorsa nella preview avevo detto che, secondo me, era ragionevole attenderselo in calando dopo una primavera comunque fatta tutta e con tante corse fatte ad alto livello, sono stato sbugiardato completamente. C'è stata una carriera piuttosto grossa con quello che è successo appunto nell'etapa precedente a quella del Monte Baldi, in cui di fatto Van Garderen, che allora era in testa alla classifica, è stato rimasto ingarbugliato in una caduta da solo, tra l'altro, su strada larga, proprio perché è TJ, a 7-8 km dal traguardo. Stava tentando, è quasi riuscito a rientrare, ma ai 3.500 metri è rimasto bloccato dietro un'altra caduta che era avvenuta, in quel momento, nel gruppo. Sì, aggiungiamoci che ha fatto un dritto perché si è trovato a prendere la bici dall'unico stronzo di compagno con i freni invertiti. Io ho sempre detto che morto non è normale, l'odio perché l'ho preso al fantasiclismo, non ha fatto una sega, non l'ho schierato al California, al California ha cominciato a far bene, però è verissimo, ha fatto anche il dritto perché ha preso la bici con i freni al contrario, esatto, è riuscito, stava riuscendo a rientrare verso i tre chilometri e mezzo, ma è rimasto ingarbugliato dietro un'altra caduta, è arrivato al traguardo con una cinquantina di secondi di ritardo rispetto al gruppo, ma è intervenuta la giuria e miracolosamente ha deciso di effettuare la neutralizzazione ai tre chilometri e mezzo, perché non era una neutralizzazione a tre chilometri, cioè all'obiezione, ai ricorsi della Stana, ma scusate non potete dare una neutralizzazione a tre chilometri e mezzo, la giuria ha detto, no la caduta è avvenuta giusto poco prima dei tre chilometri, nonostante ci siano le immagini, i video, eccetera eccetera, quindi siamo dal livello del, questo lo dice lei, come tipo di contestazione, il nostro collega Alberto Vinconelli si è sentito indivere di scrivere un approfondimento a riguardo che probabilmente troverete anche nel podcast, si lo inseriamo nelle note dello show, il titolo è Alberto, come sempre molto delicato, Go, UCI, You're drunk, è una cosa interessante, vi anticipo dell'articolo, anche l'approfondimento che è stato in grado di fare su qual è il presidente della giuria, che non è un novellino, è tale Philippe Marien, che è stato presidente di collegio, ad esempio nel Tour de France 2017 ed è stato autore di un'altra decisione molto contestata che è quella dell'espulsione di Peter Sagan in quell'edizione del Tour per l'incidente con Cavendish. Quello che fa abbastanza ridere in questa vicenda è che in quel caso proprio si era distinto per una decisione che era stata molto severa, poi dopo si può essere d'accordo o contro la decisione che era stata presa, ma era stretta applicazione del regolamento, hai causato la caduta, ti riconosciamo responsabile di questo, ti cacciamo dalla corsa. In questo caso invece è stato molto, molto, molto più blando nell'applicare la norma, perché la norma dice non tre chilometri qualcosa, ma tre chilometri punto e stop. Qua si è proprio inventato le regole, evidentemente sono cose che non avvengono solo nel calcio, poi vorrei spezzare una lancia a favore del povero TJ che credo sia abbastanza incolpevole a differenza della situazione che si venne a creare nel 2017 in Catalunia, dove invece lui con la squadra romperò veramente le scatole per una questione di spinte nella cronosquadra che non erano spinte, stiamo a prenderci in giro, erano più avvicinamenti per mantenere le posizioni, la spinta, le sanzioni previste dal regolamento UCI sarebbero per le americane sostanzialmente, che abbiamo spesso visto nelle volate, quelle sono sacrosante. Però vabbè, in quel caso romperò talmente le scatole che poi la giuria penalizzò tutta la Movistar. In questo caso invece il povero TJ era completamente ignaro della situazione, ha raccontato, guardate io stavo andando già verso le docce, convinto che fosse una giornata di merda, quando mi chiamano mi dicono, oh devi andare alla premiazione, fai come devo andare alla premiazione, ho preso un minuto, no, eh devi andare a premiazione, ho non l'ho detto tutti i tempi. Poi tra l'altro lui è caduto ai meno 8, c'è questa casebra, sì, vabbè, poi non aveva ancora completato la rimonta. Alla fine vabbè, in tutto questo c'è senso perché i 3-5 era comunque in gruppo, più o meno, quindi da lì...